si preparano giustani mattina moddo maristella esorbente bianca gialla arancia dai che c'è metti fuori la gamba william metti fuori la gamba dai tira dai fuori alzati si preparano giudice Rebecca in gallina linda vorrei vedere così vai dai bene bene tienilo bravo vince l'effetto migliame si classifica al primo posto grazie grazie